Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 39esima puntata della serie italiana, oggi siamo qui con... Siamo già tutti Sì, sono già tutti Mi vengo da ridere che prima... 3, 2, 1, via! Alexa, questo è un pro memoria Allora, abbiamo seminato tutti i campi, il campo 2 l'abbiamo fatto vedere che l'abbiamo preso, Samo, sì? Sì, abbiamo preso, mi pare, poi si trova, barbabietole, vedremo cosa fare, poi mi sa, non sembra che c'è stato più niente Allora, l'abbiamo preso, abbiamo raccolto le barbabietole, si è bloccato il farming, ma questo è normale Ok, tipo 2000 ore dopo siamo arrivati qua Allora Abbiamo fatto tutte le barabababababababababababababietole e sono qua Abbiamo lasciato un pezzettino di campo, come vedete, un po' fatto a matto Per le barbabietole Poi... Perché a matto? Nell'altra se va così... Samo ha voluto, insistito, per prendersi un trattore nuovo E c'è... è talmente contento del trattore nuovo che è anche doppio Con uno lo guarda da dentro, con l'altro lo guarda da fuori Ma perché il logo devi... ma venne qua? Perché facciamo a zbagliare quello che... Devi metterci... io te lo vendo, eh Ma che stai a fa' con lo titan qua? Ci sei boccato dentro? Lo titan Il titan, vabbè, il same Ma no Ma io vedo che c'è il same qua, ci sei dentro Ma il same l'hai messo in mezzo qua Ma io lo vedo qua Oh Ci sono... Mozargo, dobra Ci sono... ho tipo... sono montato là Ho fatto... ho videvole il trattore qua Ho fatto l'hai per salire ma te l'ho trasportato là Devi metterci i parafaghi Fine Subito Anzi, prima di subito Quindi Vanni E' là Vago, vago Noni, 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 noni Oh Fai ben grasso, ben grasso, ben grasso Tu vedo, eh Tu vedo 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 Vai Fai fai, mi vago mettermi, fammi staccata per te cara Fammi staccata, ciao, venguti Fa qualche madonna No, dai No, la per te cara Non la voglio, la per te cara Non la voglio, la per te cara Vatti via che non mi fa configurare Ma mi vengono a staccata che te bio un gorbo Zitto Via Uffa Anzi Ti metto pure quelli larghi Perché per questo ci va quelli larghi Deve più bello quelli parafanghi stesso Zitto e trebbio Allora Andiamo alle galline Non qua, ah, le galline Pollaio Ok, meglio Sto andando fin gazzurato Ma andiamo, eh, sì Peggio di te Ma andiamo sul tempo Teniamo d'occhio le barbabietole Ok, sto lag Sto comandando sul tempo Allora Teniamo d'occhio le barbabietole che erano a 3, 5, 7 prima E teniamo anche d'occhio la soia La cosa E anche la soia Mi ando a basta tagli i parafanghi Senza che te lo dico Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Aspetta Eh, mi dà un giro Allora Ma, se mi dice qua, 4 metri facemola, veniamo Ehm Ma direi per ora No, 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 no Eh no Quante alla fine anche sti gazzi? un anno di novembre io infatti tutela pure a me al massimo del voto nel due pio questa quale compremmo un po' la fermata per piedra è buono ma che cap bostelli dicendo ma vedete 3.38 3.57 non è buono c'è tutto basso si sta alzando piano poco piano soglia la colza è 2.334 ma mi sa che non è tanto alto 2.334 mi pare 2.500 l'avevo venduta ma ste galline ce l'hanno da mangiare ah no gli manca il frumento ecco perché gli manca il frumento alle gallette gli va dato ah adesso possiamo anche dargli le barbabietole volendo ce l'abbiamo niente da quando le galline mangiano le barbabietole io mi ricordo che non mi raccontava che le barbabietole maniato le barbabietole anzi sa che mangiava i due zuccherifigi quando faccio lo zucchero sullo scarto di nuovo facendo quella polpa delle barbabietole no? aicole andavano matte per quelle lì che volete botte canza acqua energia si quello si è una cazzo di puntura di non so che non vuoi c'è la sola diciamo solamente no scherzo allora la soia ho fatto male ehm io sembra tutto orzo eh rosso guarda se mi non ho orzo tutto il rosso ma pian piano si sta alzando anche la colza eh ok stavo scherzando oh la soia la soia promette bene la soia promette bene oh le proprie vite si sono fossilizzate lì intanto diamo una pulita alle galline chi ha fatto veramente questo pollaio sarebbe da dargli la medaglia non riesce a raccogliere la roba manco a pagare la soia si è fermata l'orzo sta al 1117 cos'è che si è fermata la soia? si è l'orzo sta al 1117 non è male gravco? eh? gravco? che bortini? non l'ho dito ma ma che c'entra? snyder elettrico elettronico com'era non mi ricordo ehm va con ehm... c'era cosa su non dire cosa senza senso coso? posso solo fallo sullo io e soprattutto non metto i parafanghi non mette? non metto i parafanghi vai non metto i suoi eh no 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 non togliere ehm una maa! ehm una maa! ehm una maa! ehm una maa! verde dove il mio palaguardia le galline per favore scappare poi alberto laia di merda che è stata una porta del sito mini ma se stasano le barbabietole turi gli scherzi ma non c'è veramente la porta per entrare costa stacqua non c'è 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 tipo un cancelletto non è una porta era una forma per favore ma se si si baggano qui dentro se muro muore lì dentro come vai a prenderla minchia 420 ha fatto un zombo allucinante ma è la 356 ma stava a 320 quando era 35 guarda la soglia peggio 1186 1856 no non ci siamo non ci siamo non ci siamo non ci siamo quindi gioca 6 minuto quando e quando si alza il prezzo lo vendi perchè ando eh si eh cavalli cavalli è un gorbo all'oro va bene dai ragazzi ci vediamo tra poco quando abbiamo capito qualcosa bene ragazzi siamo giunti alla conclusione che compriamo questo cassone per velocizzare un attimino i trasporti poi lo attacchiamo al a 720 ho paura che sia te lascio l'828? beh no ma guarda che non è non è salita no andrì o no? prendiamo il 720 la vorrebbe farci sai che mi piace questa serie? se era un 724 era meglio eh resta sempre quel fatto però sai che mi piace questa serie eh tipo che ci abbiamo due farm tipo diciamo tre quattro cavalloni in giro e cioè teniamo le cose un po' dappertutto ti piace quello? a me non piace sinceramente a me piace mi piace avere sempre tutto bello pronto vicino e lo so però se ci pensi in realtà di solito cioè può capire cioè spesso capita che è QC ma da me no eh me chi potremmo portare via il container quello là delle balle o no magari qualche pallet può tornare utile da mettercelo dai lasciamo un momento non è il container delle balle eh? non ho capito che serve il container delle balle? il cassone quello scarabile per le balle che avevamo preso ah l'uropiano si eh per metterlo dove? per venderlo no porca mmm Sammo c'è un problema beh cominciò male cosa c'è? cosa fa? no nel senso che il problema è? eh prima bisogna a meno trabbiare una striscia perché sennò come ci arriviamo là in fondo no ma siamo stronzi proprio siamo andati nella parte più distante della mappa siamo andati nella parte più distante della mappa si è andato con il mocchio una roboteca aveva già l'entrata e l'ho fatto sotto a capo chissà che ti dirigeva il cervello eh nella parte più guarda i cartelli nella parte che faceva l'angolo così ho detto sta loco non giamba non giamba a te per gli loco gah no ma forse si entra anche da dietro no non si entra da dietro eh allora ce lo metto da dietro no 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 un milione e quattro che vanno un gorbo grande sim sa non posso configurarlo a 724 si lo sento sempre detto ho detto che ti dice no da solo no eh no te lo metto voglio guardate i campi quanta differenza ti fa ah eh ma allora sulle sulle muri sulle eh è brutto 720 ma perchè dobbiamo fare ste robe tu ma la mese da 720 ne ha venduti tanti cioè ne è che si anche da me però c'è stata 724 tu no devi più a 720 ma all'inizio non c'eravamo niente potremmo passare da 150 cavalli a 240 tu hai voluto 936 che ti piglia 1x33 eh ho capito ma io mica ti ho fatto piare lo 718 si piava lo 720 ma te piavo l'818 te pigliavo saresti stato contento l'818 se ne hai visti orecchio saresti stato contento non troppo però è una pagina tutta la lagna che facci dopo ah quindi dici che sono una lagna va bene te ci sanno li parafanghi lo qua sopra non li togli più che ci fanno ho saldi eh vabbè te li saldo pure sull'820 che tu ci togli sempre ei no 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 la te vendi ormai come è così da sarestiiffgli 22 tu il 0.4 rimane mai passi no , passi no la te venti ma non metto Non togliere i suoi 936 che ti lincio. Porca miseria, ma è diventata ingestibile fatab. Sì, è conviene fare esco e guardare i mezzi, sì. C'è stato tipo ci sta 300.000 sovrapposti uno sopra l'altro? Eh. Beh, a seconda della zona che vai, premi e vai ovunque, sui pultini. Che tanto, ma sai da quanto tempo è che noi non ripristiniamo una cosa perché si incastra? Con le mani. Io mi ricordo, nel 2013 il ripristino era l'ordine del giorno. A parte nel 2013 la moto si pagava di continuo, si ripristinava la voglia. No, qua siamo ripristinati l'altra volta, lo scorpion. E il varne. Poi altre volte, tu sei rimasto a piedi forse che siamo ripristinati? Ma si è appena lega soldi, dico. Può essere. Sto trebbia, ha fatto 13 ore e ti ha stata cambiata, non ho faticato niente. Che cosa? A trebbia. Ma c'ho accorto. Ma che ti l'hai detto, tu stai a cambiarla? Sto cambiata, cioè cominci a essere un po' giù, guarda. Lui è grosso, eh? È tanto lo trebbi tu? Mmm, no, 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 non so chi, però. Non della cara. Ogni quando c'è, però. Non tirare la corda, eh. Ma perché sembra che ti metti sott'acqua ogni tanto quando parli? Sì? Sì, tipo... Anche te lo facevo ieri, me lo facevo quando parlavi tu Tu pare che ti metti... Trambo in avanti la bocca, pare Eh, ti si sente basso, sembra che parli sott'acqua Con la mascherina, non è uguale Eh, poi se sto sputato dal microfono Vado a fare lo stupido che tipo metto il microfono in bocca A me è andata la saliva e si sente... Ma Simo, tu da te c'hai la mascherina? No E mette c'è, c'è il tacchio coronavirus Gli stavo la portiamo a te? Eh, sto soffrendo il microfono, eh No, mette il virus Il virus Vuoi meglio? Gli fai tre bia? Eh, sto soffrendo il microfono, per vedere se stavamo con il zoso Ma pure tu, ma non è quello Sicuri che non si è entrato di qua? Mi ha messo il telefono e mi fa... Porco Ma sai che si entra da dietro? Tanto l'armo Qua dietro Si entra Dov'è l'imbocco? Non c'è l'imbocco, ma po' chiù Dai, su Parai, c'è la tre bia Che andiamo Sai che bestemmia qua dopo? Le cacci tu le cacci, non ci sta problema Come attacco io il carellino adesso? Non la cd? No, che inciampa Poi passiamo quei trattori Non lo so già che ce lo portiamo Fino allo store Ce lo portiamo Sotto, no, è sottringiato la baglia un po' troppo Ma... Allora, c'è ci la vuole dalle orecchie La voglia di rimanere Infatti non mi viene manco in mente La pistola Non basta che lo metti tipo da parte di qua su Andrò quando passemo Che vuoi fare? Mettilo la storia Cioè la parte della strada Sulla strada Non lo mette dentro Andrò del quaderno Andrò del quaderno E passemo, no? No, lo metto dentro Lo metto d'un lato Allora, lo giungo Qua Qua Comodo, eh Ok La direbbe la drapobiano Geek Engine Sì Le cinesi Quindi ho fatto dieci metri Già mi ha saluto le basse Non ne posso più Mettilo per aria No Porca broia, che coglione Sei vero che sto campo Verrà pestato tutto? Cioè Eh, ce lo faccio un po' De passate Eh, perché Sennò stiamo sicuro Sì, ma attora Lo vogliamo Quasi quasi ci avrei lasciato Un pochino Più di spazio Cioè se lo avessi seminato io Gli avrei lasciato Ok che avevo arato Fino lì Ma un bel po' Più di spazio di sotto Tipo qua a destra Avrei tagliato Almeno qui c'era più spazio Per girarsi Non ci ho pensato Ma fa niente Arriva giù e basta Non stare a fare tante cose Ma sta dalla fattiva Quasi quasi Anche perché Vedi qua Ora non è che Poi quando mettiamo i nastri Non è che c'è tanto spazio Sai cosa ci vorrebbero Due t-runner Ne scarri uno Carri l'altro Scarri uno Carri l'altro Eh, roba Abbiamo un altro carro ancora Come? Ne abbiamo tre carri Eh, noi Quattro Però l'altro porta 18.000 Quanto porta la tua trebbia? Penso 10.000 No, di più 11 Si può anche fare Ma quale carro, scusa? Abbiamo un altro Scarcassone Scarcassone abbiamo Scaravide? Sì Allora Cominciamo a portare i nastri Bene ragazzi Ditevi che per questa puntata Può essere tutto Noi ci rivediamo Nella prossima Che è dove vendiamo Probabilmente Le proprie pietole Da Dan Emo Si sono È tutto Ciao a tutti Ciao a tutti